Parte nel caos la ZTL voluta in via Caracciolo dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento delle gare di qualificazione per l'America SCAP. Il traffico paralizzato ha segnato però la prima giornata del nuovo dispositivo che prevede la chiusura di via Caracciolo con i veicoli dirottati da Piazza San Nazaro in direzione Corso Vittore Emanuele, ad eccezione del ciclomotore e dei mezzi pubblici che possono transitare in via Legramci. Ovvie le proteste dei cittadini nei confronti dei 450 vigili urbani schierati in strada, in massa, in corrispondenza ai 18 varchi della zona traffico limitata e all'ingresso dei percorsi alternativi che resteranno così fino al 25 aprile. Ed è proprio ai napoletani che si è voluta rivolgere l'assessore alla viabilità del Comune di Napoli, Anna Donati. Siamo sicuri che ci vorranno due o tre giorni perché con i vigili costantemente in strada un po' di cittadini si rendano conto che i controlli ci sono e quindi sicuramente non tenteranno anche domani e dopodomani di attraversare la riviera di Chiaia che invece è destinata agli autorizzati. Quindi di modifiche al piano non se ne parla? No, modifiche nel piano assolutamente perché far saltare in questo momento che non sia ancora assestato il provvedimento sarebbe veramente una follia. Non poche bolemiche inoltre ha suscitato la decisione di dirottare le auto sul Corso Vittorio Emanuele, riasfaltato a tempo di record nel weekend, forse, come si può vedere dalle immagini, un po' troppo frettolosamente. I lavori sul Corso Vittorio Emanuele non sono finiti, sono stati fatti con molta fretta e questo è vero, quindi tutte le auto che abbiamo potuto spostare nella notte di giorno chiamando i residenti l'abbiamo fatto, quelle che era proprio impossibile perché il residente non si è trovata, naturalmente l'asfalto non è stato sistemato.